vediamo quello che ci capita all'interno di un ciclo di stress quando poi questo diventa vizioso perché è bene conoscerci e capirci allora arriva un pericolo il pericolo viene avvistato in realtà da l'amigdala poi ve la faccio vedere è un affare in oggi ne abbiamo due elementi nel nostro cervello a livello limbico percepisce attraverso i cinque sensi un pericolo che sia reale cioè che sta cadendo fuori dalla persona o dentro quindi che se l'è immaginato perché è una scadenza che sta terminando deve parlare con una persona che gli mette soggezione tutto questo e l'amigdala non lo vede in maniera intelligente ma lo reagisce come uno stress è uno pericolo arriva quindi questo segnale all'amigdala che potremmo dire che è la centrale elettronica delle nostre emozioni e non solo produce una classe di elementi che si chiamano corticotropine quindi degli ormoni che cosa fanno queste si muovono fanno raggiungere l'informazione attraverso il modello spinale dietro le ghiandole surrenali e queste ghiandole che stanno proprio dietro ai reni producono adrenalina e glucocorticoidi che sono i due e due classi di ormoni che ci servono per fronteggiare proprio lo stress questi ormoni dove vanno ad agire sui muscoli quindi facendo passare più sangue redendoli più tonici sul cuore quindi facendolo pompare ancora di più e sui polmoni perché devono ingaggiare più ossigeno tutto questo viene chiamato attacco o fuga fight or flight e tutto fino al punto numero 7 va tutto bene è chiaro che quando diventa cronico cronos cioè si ripete nel tempo il ciclo va in lupo e ci stressiamo per qualsiasi cosa ci accada durante il giorno è chiaro che ci inquiniamo di ormoni che non dovrebbero girare chiaro che a livello psicologico cominciamo a deperire qui vedete ma giusto solo a per fine così didascalico il cervello vedete lì nella fase in alto a sinistra l'amigdala con la farina amigdala da greco vuol dire mandorla la vedete nella nella foto blu quella mandorla rosa quella è l'amigdala ne abbiamo una parte sinistra una parte estra del cervello riceve gli segnali di pericolo attraverso attraverso i cinque sensi manda un segnale a midollo spinale questo scende vedete qua sopra di me i due reni e quelle due ghiandole gialle sono appunto le ghiandole surrenali che producono adrenalina e glucocorticoide allora proseguendo cosa abbiamo in condizioni normali l'ansia può in effetti costituire una reazione fisiologica opportuna volta a mobilitare le risorse di ognuno di noi rapporta gli stimoli circostanze reali l'ansia però non deve diventare cronica anche anche lei no quindi l'ansia va bene perché mi sta dicendo guarda che adesso devi reagire quando poi l'ansia non ha come ritorno l'azione è chiaro che si rischia andare in depressione quando l'ansia raggiunge livelli di intensità eccessivi quindi non è più funzionale al superamento di ostacoli e quindi noi cominciamo a vedere una drammatica diminuzione delle proprie prestazioni individuali anche fisiche e un ostacolo evidentemente al conseguimento dei nostri risultati cosa rischiamo e si rischia grosso perché se noi non poniamo freno se non cominciamo a dire fermiamo il treno io ho messo lì due disegni di cellule neuronale vuol dire che il nostro cervello comincia a cambiare cioè cambia il suo aspetto interno voi non lo percepite non si può vedere perché dentro ma in realtà cominciamo a diventare diversi e quel diverso però non va bene perché dopo potremmo diventare dipendenti da farmaci esterni che ci fanno ritornare tra virgolette normali ma per un periodo di tempo e poi si ritorna lì insomma non è il caso di modificare la rete neuronale del nostro cervello allora molte sono le possibili conseguenze nocive sull'unità psicosomatica tra le quali adesso io posso menzionare che cosa l'aumento dei trigliceriti e colesterone sangue perché la persona sappiate che le persone più stressate mangiano più zuccheri o grassi fritti e questo capite bene col primo esame del sangue lo si accorge se sta si sta andando verso lo stress cronico meno c'è una periodo di minerali con il rischio di osteoporosi perché in accidendo di più il nostro stomaco quindi magari mangiando molti formaggi che non so carne e così via noi rischiamo di perdere invece calcio dalle ossa perché le ossa sono un magazzino di calcio che rilasciano il calcio per ristabilire l'alcalinità e quindi la dolcezza all'interno del nostro stomaco ma paradossalmente più formaggi mangio e più latte bevo è vero che c'è dentro il calcio ma è inferiore la quantità di calcio ceduto dalle ossa per ristabilire la dolcezza del nostro stomaco perché si nacidisce e quindi insomma è un loop anche quello un po' bizzarro c'è un incremento della resistenza all'insulina con il pericolo di abete 2 se continuano a girare troppi zuccheri c'è un'alterazione in circuiti nervosi quello che accennavo prima con conseguente danno alle strutture dell'ippocampo cioè comincio a perdere la memoria e dell'ipotalamo quindi comincio a svegliarmi di notte troppo spesso una volta due al mese va bene ma se lo faccio una volta due a notte non va mica bene è l'inizio di una depressione quindi l'ansia anziché diventare uno stimolo per me per reagire diventa proprio cronica e pericolosa e poi alterazione della risposta immunitaria con la possibile comparsa di malattie autoimmuni allergie stati cronici di infiammazione ecco qui è interessante che cosa vi ho messo io una lista noi cominceremmo noi potremmo iniziare a vedere se sono un po troppo stressato e magari non lo percepisco direttamente con un semplice esame del sangue se vedo che i trigliceridi colesterolo è troppo alto se comincio a svegliarmi troppo di frequente la notte pensando cosa devo fare il giorno dopo è il caso di cambiare alcune cose della mia vita prima di prendere delle medicine ecco questo è un po se non si fa arriviamo un'alterazione autoimmune cioè l'organismo aggredisce se stesso perché così ci fa vedere proprio sulla pelle che stiamo male dopo noi dobbiamo intervenire ma in quei casi dopo è un po anche tardi infatti io voglio parlare di malattie autoimmuni quelle malattie che la nostra unità psicosomatica fa scattare a fronte di che cosa 99,9 per cento periodico stress abbiamo il lupus eritematosus sistemico quindi queste infiammazioni e dell'acute e anche degli organi interni sul pancreas potrebbe essere fatale per esempio l'artrite reumatoide una delle cause dell'artrite reumatoide è proprio un altissimo livello di stress perpetuato nel tempo la tiroidite sia iper che ipo le cause fondamentalmente sono tre una è genetica un regalo di mamma e papà un altro è cernobil dall 86 dal 1986 in poi è un'altra causa se hai capito la tiroidite potrebbe essere la tiroide potrebbe essere danneggiata e quindi sviluppare una tiroidite da un eccessivo stress chiaro che ci devono essere delle predisposizioni evidentemente l'alopecia areata cioè la perdita di capelli areata quindi a zone colpisce di più il pubblico femminile dai 24 ai 35 anni e anche qui quando uno poi ha perso tutti i capelli o ti ricrescono o non ti ricrescono più fino arrivare a psoriasi vari o sclerodermie importanti come queste gastriti perché si mangia in maniera disquilibrata oppure al termine il bruxismo quindi il digregnamento notturno dei denti a volte anche diurno e in farmacia vendono questo bite questo parecchio di cauciu per evitare che si produca del rumore che si rovini la corona del dente però non non stiamo andando a togliere la causa quindi cosa fare si può fare qualcosa si possono fare tante cose adesso ne faccio vedere alcune alla carta e che si possono attuare da subito allora intanto prendiamo democrito che nel 500 avanti cristo disse gli uomini implorano dagli dèi la salute e non sanno di avere in mano essi stessi gli strumenti per conservarla più di 2500 anni fa le persone erano stressate come noi non avevano il cellulare non avevano tre milioni o eri in partenza che poi rischiavano di perdere o qualcuno veniva licenziato non esisteva il lavoro a tempo indeterminato e non c'erano datori di lavoro con contratti ma comunque erano tutti stressati per altre cause e democrito 2500 anni fa diceva guarda che le risorse ce l'hai dentro te inutile da lei dagli stregoni o da qualche altro e quali sono queste risorse intanto ve ne butto una lì questa è una scheda che ho compilato tempo fa evidentemente non vuol dire annegare le proprie tristezze nel vino ma a vedere vedete lì a sinistra il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto cominciamo a vedere tutto ciò che ci accade o buona parte di quello che ci accade come un bicchiere mezzo pieno c'è sempre gente che sta peggio di noi a date che questa è una buona pratica e poi per deaffaticare il nostro cervello che un po troppo stimolato da ormoni che non dovrebbero girare poi così tanto fate qualche attività non dico di correre in bicicletta o correre sulla sabbia ma qualche piccola attività anche podistica muoversi fare almeno 10.000 20.000 passi al giorno potrebbe aiutare a disintossicarci se avete un hobby continuate a portarlo avanti dedicateli magari più tempo se l'avete perso lo riprendete alimentatemi un po come volete ma l'importante è variare in continuazione con le spezie con i gusti eccetera in modo che il cervello sia sempre impegnato a interessarsi ad altre cose a risolvere piccoli problemi di gusto e poi la faccina che ride techitisi dicono americani insomma non prendiamoci un troppo sul serio e cerchiamo un po anche noi di sdramatizzare le cose ma non è l'unica l'unica scheda che voglio farvi vedere perché il benessere psicologico arriva anche da che cosa da una e qui la parte finale anche da un atteggiamento verso positivo propositivo verso lo stress e qui abbiamo due parole inglesi ve le spiego coping e empowerment coping vuol dire fronteggiare fronte non annullare fronteggiare e un paolo vuol dire sviluppare sviluppare vedete lì la nostra zone allora per fare questo cosa bisogna fare soprattutto il coping perché poi l'empowerment quindi lo sviluppo mio per rendere operativi le risorse all'interno del contesto sociale quindi lavorativo non lavorativo lavorativo familiare genitoriale e così via avviene se ho fatto bene il lavoro sul coping e quindi andiamo a vederlo coping fronteggiare fronteggiare lo stress con le caratteristiche interne allora come si fa fronteggiare lo stress noi abbiamo le emozioni e il problema ok noi abbiamo queste due diciamo così classi che noi abbiamo questi due momenti importanti le emozioni e il problema vediamo se a livello emotivo possiamo fare qualche cosa e poi a di problema possiamo fare altro intanto vediamo a livello emotivo possiamo attivare delle cose e evitarne delle altre e le vedete gli scritte cosa posso attivare dinanzi per fronteggiare lo stress posso cambiare prospettiva posso accettare la cosa oppure dagli delle attributi positivi per esempio la fede per chi crede oppure ricercare attivamente supporti emotivi esterni tipo gli amici familiari colleghi quello che volete quindi a livello emotivo io 1 2 3 4 diciamo così tasti da schiacciare per gestire meglio le mie emozioni all'interno di uno stress che mi sta coinvolgendo oltremodo cosa posso evitare posso evitare magari è l'accettazione quindi io nego nego che ci sia questa cosa qua per un po io posso anche pensare che quella fonte di stress non esista non è detto che negare non faccia bene certo non fa bene se faccio finta che prima non esista per sempre posso sospenderlo mi occupo di altro si chiama disimpegno mentale oppure vado via lontano un po da tutti per un tempo utile di concentrazione si chiama isolamento sociale quindi se io do un tempo per disimpegnarmi mentalmente la cosa può essere utile a livello emotivo quindi posso attivare o evitare delle cose sul livello del problema posso anche qui attivarmi o evitare attivare che cosa quattro tasti quattro leve la prima posso pianificare e progettare ok questo è il problema lo ripianifico lo riprogetto lo distruggo lo rimetto insieme eccetera oppure ricercare attivamente supporti operativi non conoscevo così a fondo il problema quindi mi informo acquisisco formazione su questo oppure mi oriento al compito quindi cosa faccio c'è un problema bene allora esercito tutte le mie energie e risorse a come devo svolgere questo compito avete questa parte ancora più operativa dimentico il fatto che c'è ok come lo risolvo punto chiuso fine oppure altri colgono la sfida va bene la vita mi pone di fronte questa cosa qui non faccio finta di vederlo colgo la sfida vediamo se posso farlo da solo con l'aiuto di qualcuno o avendo più informazioni cosa posso evitare fondamentalmente due cose evito posso evitare il problema se lo stress in quel caso lì è altissimo penso a un lutto per esempio oppure posso fare quella che viene chiamata desistenza comportamentale non mi faccio agganciare dalla situazione cioè se un amico o un'amica chiunque dice allora com'è data con quello e voi dite no a posto è però che sfortunato che sei stato proprio a te doveva capitare allora in quel caso lì devo desistere il comportamento quindi saluto l'amica l'amico ciao ci vediamo un altro giorno perché tu sei un elemento per me in questo caso qui negativo e che non mi aiuti a superare la cosa quindi le strategie di evitamento sono da considerare migliori dinanzi ad eventi con impatto emotivo molto intenso ho citato prima il lutto la perdita una casa la perdita del lavoro ma solo da utilizzare a breve termine dopo però bisogna ritornare in pista poi occorre passare a quelle attive che abbiamo visto prima nella gestione del tempo le tipologie migliori sono quelle di tipo attivo e quindi qua c'è l'atelier gestione del tempo che ne parla in maniera anche abbastanza approfondita cosa dobbiamo fare allora siamo alla fine dobbiamo cercare la medaglia del rovescio non il rovescio della medaglia dobbiamo riposizionarci in maniera competitiva con noi stessi dinanzi al problema che ha generato lo stress e quindi colgo l'opportunità insite nella criticità come il mio piccolo gattino eragon cercava di raccogliere un po di presumo se ben ricordo del del mais all'interno della ciotolina con un po di fatica evidentemente ma quella criticità mi dava la possibilità di mangiare qualche cornflakes in più quindi cogliere le opportunità insite nella criticità piuttosto che rimanere a contemplare proprio il rovescio della medaglia e dire a come sono sfortunato capitano tutte a me io cosa ho fatto nella vita precedente di male cosa posso dirvi e cosa possiamo dirci facciamo così guardiamo questi due giovani e diciamoci che la vita dovrebbe essere una vita ben vissuta e dietro di me c'è scritto e basta buona giornata a tutti e a tutte